Zaino e spalla! Si parte! Colleziona e esplora natura. Lo zaino è in edicola solo con oggi. Italia 1! Squadra speciale delitti deviati. L'hai trovato? No, non risponde né a casa né al cellulare. Ora la partita è davvero finita. Chi mi dice che non farei una pazzia? Eccezionalmente di venerdì. Ciao, Ray. In prima visione Italia 1. Killer Instinct. Domani sera 22.55. Immagina di trovare la perfezione in ogni dettaglio. Con il nuovo Samsung Ultra U700 è così facile immaginare. Iniziamo! Immagina di trovare la perfezione in ogni dettaglio. Ciò immagina di trovare la perfezione in ogni dettaglio. Perfetto! E' un'altra cosa. Con Esso Energy e Diesel ogni motore può dare di più e ogni rifornimento ti dà doppi bollini automobilisti premiati. Esso Energy e Diesel, un'idea più evoluta del diesel. Uno shop di birra, questo portaci da bere. Uno shop di birra, fredda, con o senza schiuma, scura, chiara, ma che sia una birra. Che gusto? Gusto tre. Ya, 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 portaci da bere. Che gusto? Grazie a tutti!